Verrà conclusa dalla bulgara Besialeva che ha sicuramente un bel match ball tra le mani. Hush, hush, don't say a word of fate cries, could hardly be heard a storm lies beyond the horizon barely. Sous-titrage Société Radio-Canada Israele è una nazione che vanta la campionessa olimpica, medaglia d'oro a Tokyo 2020, Illinois Ashram.